Ciao a tutti, io sono Nicola Pesaresi Ciao a tutti, io sono di sotto E in questo video ti diremo perché stai perdendo un'occasione strepitosa L'occasione della tua vita, ecco, sì, 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 è una grande occasione Bene, te lo spieghiamo dopo là Sì, là Ciao, io sono Nicola Pesaresi E glielo hai detto, glielo hai detto, io sono di sotto Ecco, in questa rubrica noi in due minuti cerchiamo di darvi qualche dritta riguardo al mondo dello spettacolo Ma non solo, vale un po' per tutti gli ambienti lavorativi, ecco Ecco, che è tutto quello che ha a che fare con il rumore se stessi Esatto, se tu sei un brand, se tu sei una personalità, un personaggio E devi venderti in qualche modo, devi essere al pubblico, devi esporti Non c'è cosa migliore al momento di TikTok Sì, ma quello che ragazzini, che ero dei ragazzini, ci sono tutti galletti Non è vero, non è vero, perché stanno entrando tutti in TikTok Dai VIP che hanno capito che non ne possono fare più o meno Ai manager, agli uomini d'affari Stanno entrando tutti in TikTok In TikTok, Nicola, però, è come Instagram Non è come Instagram, perché su Instagram non è più possibile crescere E su Instagram è difficilissimo crescere adesso, devi pagare per crescere Ecco, allora io cresco Non è così, però su Instagram, su Facebook, su piattaforme, anche YouTube stesso Ormai sono piattaforme difficili dove crescere è quasi impossibile Invece crearsi un pubblico è possibile adesso su TikTok Quindi se non state su TikTok siete cretini Non esagerare, non esagerare No, però state perdendo una grandissima occasione di crescita Anche perché il pubblico che poi vi formate Andate a convincere su TikTok a seguirvi Poi ve lo ritrovate Cioè è un pubblico che vi seguirà sulle altre piattaforme Su Instagram, su YouTube appunto E allora perché non provare proprio a tirar fuori A cercare un modo vostro di comunicare Veloce, rapido Che vada bene per TikTok Mi raccomando, questo è il mio grandissimo consiglio Non puoi farne a meno, assolutamente Assolutamente no, questo è il mio grandissimo consiglio Entra su TikTok E se ti piace Eh? Fai anche i balletti Che balletti Se ti piace puoi farli Puoi sfruttare i trend Ci sono tanti modi Poi se vi interessa Scrivetemelo qua sotto Che vi spiegherò un po' di trucchi Per arrivare a più persone E per avere più successo su TikTok Perché è una piattaforma Che sto imparando a conoscere E dove sto piano piano crescendo Grazie ad alcune piccole strategie Che sto mettendo in atto Con successo Esatto Grazie a me Grazie a lei Ma non solo Grazie anche Grazie a che cosa? Grazie a tante altre cose Bene mi raccomando Allora fateci sapere Se vi interessa questo argomento Eh? Ok? Sì Commentate Esatto Iscrivetevi al canale Se ti piace quello che facciamo Esatto E mettete un grandissimo bellissimo like Benissimo Quindi da Nicola Ed è solta queste kindole di saggezza Perle di saggezza Kindole di saggezza Quale? Bene Ciao a tutti da Nicola E ciao a tutti da sotto Ciao Ciao a tutti 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 Ciao a tutti